ultimi anni. Un trio che parte dall'improvvisazione pura per andare poi a ripiegare e a ritrovare se stesso e la propria unità nel tema, a differenza della musica rock dove al tema segue poi l'improvvisazione. Un batterista con la passione per i Native American, un bassista contrabassista che pare uscito da un film di Hitchcock con la passione per il free jazz e un tasterista specializzato in vecchie tastiere analogiche degli anni 70, magari rotte, che è andato a recuperare in chissà quale magazzino sperduto nella provincia americana. Questi sono Medeschi Martin & Wood, dal vivo a Umbria Jazz 2001 un set incredibile, ogni loro concerto è una cosa a sé stante. Ci sono temi, sì, vengono dai loro dischi ma forse anche dalle proprie affascinazioni, temi altrui, ci può essere Jimi Hendrix, piuttosto che Burt Bacharach, che chissà chi, non importa. La musica è un grande amalgama, loro ci sono dentro, portano un linguaggio che è apparentemente mente, solo un linguaggio nuovo, ma è qualcosa di più, qualcosa di assolutamente unico. Burt Bacharach 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. 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 a tutti.